Andrei, che cos'è l'amore? Una catastrofe. E ti piace essere innamorato? No, no piace. Mi è che non piace molto, perché per me è una cosa molto difficile, una grande malattia. E non mi sento sia scusato, quando mi amo una persona. E mi sento, come dire, mi sento, mi sento, mi sento, mi sento, mi sento, mi sento. E' un po' diversa situazione. E dove la vicenda mora? Probabile che sì. Sei felice? No.